Guardi signora, c'è questo tipo medio meraviglioso 155.000 Ma un frigider d'inverno Ma forse loro preferiscono una lavatrice Venga da questa parte Guardi questa signora In un'ora fa il bucato di una settimana e senza fatica Quanto? 135.000 Ma allora perché non le regalano un aspirapolvere? Da questa parte C'è questo tipo economico e molto pratico Lo sa usare anche un bambino Ma non hanno ancora bambini? Beh, allora una lucidadrice Fa i pavimenti brillanti come specchi, 52.000 Quasi quasi costa meno una tona di servizio Eh già? Beh, certo E ancora meno Una dozzina di cravate Ecco, magnifica idea Ottima Dov'è il reparto? Al pian terreno signora, c'è un vasto assortimento Grazie Andiamo Buonasera signora, grazie 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 Grazie